Tra Serie A, B e Coppa Italia sono 47 i precedenti ufficiali a Napoli per l'Atalanta. Si tratta di una trasferta tradizionalmente ostica, ben 32 le vittorie azzurre contro le sole 4 bergamasche più 11 pareggi. L'ultima gara è stata disputata il 9 maggio del 2010 con il Napoli vittorioso per 2-0 con doppietta di quagliarella. Per risalire invece all'ultimo successo a Atalantino, anzi agli ultimi due conseguenti, bisogna tornare indietro di una quindicina d'anni, era il 1997, il 20 aprile con la firma d'autore di Inzaghi 0-1 per i nostri, con Super Pippo che poi in quella stagione conquistò anche lo scettro della classifica marcatori. Sempre nel 1997 ma la stagione successiva, il 24 settembre, ecco un altro 0-1 per i nerazzurri a griffarlo, l'ex di turno Nicola Caccia. Il 24 settembre, ecco un altro 0-1 per i nostri,